Sono i momenti più difficili ma anche quelli decisivi per salvare vite umane. Nell'immediatezza di una calamità naturale o di un'emergenza servono nervi saldi ma soprattutto conoscenza e precisione nell'agire. Da oggi 50 persone potranno essere pronte ad affrontare con una maggiore esperienza i primi momenti di un'emergenza sanitaria. È il risultato della tre giorni di formazione sulle maxi emergenze sanitarie ad alto rischio e in ambiente particolarmente impervio. Al corso hanno partecipato in 50 tra medici, infermieri e psicologi che hanno lavorato in una situazione di rischio simile a quelle di un terremoto di elevata magnitudo come l'Aquila e Amatrice e alla Slavina che ha travolto l'hotel a Rigopiano. Con loro hanno potuto assistere all'esercitazione anche persone per lo più provenienti da associazioni di volontariato. Hanno aderito alla tre giorni dal Piemonte, dalla Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio e Puglia oltre che dal Molise. Dopo gli interventi specialistici che si sono tenuti all'auditorium di Isernia sono stati presentati i protocolli per l'utilizzo dei cani molecolari e le procedure per imbarco e sbarco dall'elicottero. Poi i sanitari sono stati chiamati a risolvere e gestire scenari che riproducevano eventi come quelli di L'Aquila, Amatrice e Rigopiano avendo come supporto i componenti della Scuola Nazionale dei Medici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Il percorso formativo è stato realizzato nell'ambito dell'attività programmata con il progetto Tubi Ready finanziato nell'ambito della cooperazione internazionale tra Italia, Albania e Montenegro.